e con questo io voglio passare a fare un piccolo escursus nel percorso che negli anni del secolo scorso ci ha portati gli stranieri nel campionato italiano di calcio che io l'ho chiamata come una vera e propria invasione parto dal 1966 poiché in quell'anno successe una grande tragedia nazionale a livello proprio sportivo ci fu l'esclusione della nazionale italiana di calcio dai mondiali ad opera di una squadra che fu definita di ridolini che era la corea del nord e proprio per i pessimi risultati che ottenne la nazionale si decise di bloccare l'importazione dei giocatori stranieri per valorizzare quelli italiani questo regime autarchico durò fino al 1980 che tra l'altro è il mio anno di nascita che a seguito di alcune decisioni perché comunque spesso e volentieri c'è il rovescio della medaglia prima fai un ragionamento poi ce n'è un altro le ragioni che venivano adotte era il fatto dell'impoverimento della qualità del gioco e del numero dei gol decisero quindi di riaprire nuovamente le frontiere e di far arrivare almeno un giocatore per ogni squadra poi si è arrivati anche ad avere due o tre stranieri per squadra fino al 92 quando una nuova norma della comunità economica europea si decise di non avere più limitazioni per i comunitari poi c'è stato veramente quella che definisco un'invasione poiché nel 95 c'è la famigerata sentenza Bosman in cui praticamente un calciatore neanche semiprofessionista belga riuscì ad ottenere una clamorosa sentenza con i quali i giocatori professionisti da quel momento in poi possono circolare liberamente nell'Europa comunitaria e la chicca è quella che avvenne nel 2000 quando Ekong che era un nigeriano della Reggiana squadra che era retrocessa in serie C1 militava in quella squadra da 3-4 anni ma non giocava perché veniva regolarmente concesso in prestito quando pareva che poteva giocare la Reggiana fino in C ma in C non era consentito avere giocatori stranieri lui prese armi e bagaglia andò al tribunale di Reggio Emilia e avvalendosi comunque sulle norme del lavoro riuscì ad ottenere una sentenza con il quale gli stranieri possono giocare anche in serie C da quel momento quindi da dieci anni fa chiunque anche squadre che militano in serie D si pensa ad esempio al Terracina che anni fa ebbe Canianghele che era un congolese che faceva il cameriere o tantissime altre storie di giocatori part time che magari di giorno fanno un lavoro e la sera o quando giocano le partite la domenica vanno a giocare nel campo cittadino. Si è avuta una vera e propria invasione che continua ancora oggi e per questa ragione nasce il fenomeno bidone vero e proprio il fenomeno bidone che molti mi diranno molti giocatori non sono da considerarsi bidoni parliamo che ne so di Rivaldo che venne al Milan di Bergkamp che venne all'Inter di Rush che venne alla Juve di Henry che pure lui venne alla Juve bidone io lo considero un concetto molto ampio nel senso che bidone intende un affare mancato un accordo in cui sia la squadra che preleva il giocatore e il giocatore che vuole giocare nella squadra vogliono ottenere un risultato il risultato non arriva per qualsiasi ragione quindi comunque il bidone avviene perché comunque ha reso il giocatore molto meno si voleva misurare con un banco di prova impegnativo ma non è riuscito nella sua missione per qualsiasi ragione quindi poi abbiamo quelli in senso stretto in senso assoluto e quelli in senso relativo quelli in senso relativo ovviamente sono quei grandi campioni che hanno fatto male magari in Italia come anche possiamo dire Klaivert che castigò il Milan nella finale di coppa campioni del 94 per poi arrivare al Milan purtroppo essere considerato il degno erede di Blissett che si mangiava gol ogni 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 benedetta domenica e bidone in senso stretto invece che hanno dei racconti che fanno ridere giocatori che magari sono venuti per raccomandazione di altri calciatori come si pensi Gilberto che fu che era un giocatore di calcetto di calcio a 5 fu consigliato da Ronaldo lo stesso Vampeta che fu consigliato da Ronaldo e che è stato eletto dalla gazzetta dello sport come il super bidone del calcio italiano in un sondaggio oppure di gente come Vukotic che nessuno ha mai sentito ma era un grande amico di Savicevic il genio del Milan che lui una volta disse infatti in un'intervista della gazzetta dello sport io mi sento già fortunato ad aver varcato la soglia di Milanello e in effetti non giocò mai di tutti questi giocatori ci sono delle storie e degli aneddoti che si raccontano e si tramandano da tantissimi anni quelle che vengono considerate le cosiddette leggende metropolitane alcune sono vere altre no infatti è per questo che io voglio voglio raccontarvene qualcuno giusto per farvi capire i contenuti del libro prima però voglio parlarvi di come ha avuto origine il libro il libro prende origine dal sito web che io un po' per scommesse un po' per gioco lanciai online nel 2006 qualche mese prima dei campionati del mondo che ci hanno visti i vincitori infatti ho detto nel 2006 ho lanciato il sito nel 2010 il libro spero che porti bene anche quest'anno anche se le premesse non sono proprio eccezionali però ancora non è detta il sito ho avuto piano piano con gli anni successo perché mi hanno contattato tantissime persone addirittura ho avuto delle citazioni su alcuni giornali tant'è che poi spinto anche da molta gente che mi iscriveva ho lanciato un'iniziativa che si chiama il calcio bidone nel 2009 ho fatto un sondaggio tra tutti gli utenti del sito quello che viene considerato l'oscar del bidone e io non ho votato proprio perché mi considero super partes e per me era curiosità al terzo posto si è classificato Felipe Melo un grande giocatore alla Fiorentina ma che ha deluso la Juve al secondo posto l'olandese Huntelar e al primo posto Quaresma dell'Inter che ho preparato già una sua scheda che però non è nel libro perché io aspetto sempre che i giocatori se ne vadano dall'Italia perché comunque è giusto che fare le considerazioni a cose fatte Quaresma adesso è stato sceduto e posso assolutamente dire che è un bidone veramente eccezionale un bidone perché lui si è intestardito nella sua trivela che è un particolare gesto atletico in cui lui si intestardiva in questo gesto atletico dimenticandosi di giocare a calcio praticamente e poi ho molto a cuore ecco questo che si tratta di una citazione che mi è stata fatta sulla Gazzetta dello Sport da Franco Arturi che è l'attuale vice direttore del quotidiano e lui ha capito molto bene l'essenza del sito questa è una lettera che ha scritto un lettore del giornale dove dice Rivaldo, Berkham, Zavarov, Rush, Zarate, Blissett date del vostro meglio e non entrate nel libro nero dei bidoni era un augurio che lui si faceva e Franco Arturi ha risposto dicendo il ricordo di tutti lui Silvio Danuello che è quello che viene considerato il bidone per eccellenza riempie la nostra infanzia, l'adolescenza e l'età adulta un'infinita storie di risate non ci stanchiamo mai di raccontare le loro avventure e poi ha fatto i complimenti a chi ha messo insieme questo viaggio nell'anticalcio che non è un'espressione irriguardosa ma qualcosa di simile all'antimateria in fisica da qualche parte ci deve pur essere e effettivamente lui con queste bellissime parole ha capito l'essenza del sito e ho molto a cuore anche l'intervista che parlavamo prima quella fatta dal buon Maurizio al caffè di settembre del 2009 infatti riportava che soprattutto alla fine la chiosa finale era che volevo dopo il successo del sito scriverci un libro un mese dopo mi hanno contattato i ragazzi della Piano B e mi hanno proposto di pubblicare le storie ovviamente rivedute e corrette e aggiornate del sito che io ho accolto con molto entusiasmo Ivan Zazzaroni l'abbiamo contattato e diversamente da come sono molti personaggi famosi si è reso disponibile è stato molto gentile ha fatto anche una prefazione simpatica infatti lui nella prefazione dice che dopo aver letto Calcio Bidoni ha trovato giusto equ equilibrare il mio lavoro attraverso la raccolta differenziata infatti lui dice straordinaria invenzione l'isola ecologica dentro i suoi bidoni infatti dice suona bene che bidoni in senso figurato ma anche in senso effettivo Vitali getta una serie di flop pacchi, brocchi, pipponi e alla fine dice preferisco lui non ama molto le prefazioni tradizionali allora dice preferisco rompere le scatole all'autore di questo libro smaltando i soggetti i protagonisti attraverso cinque contenitori nero, umido, carta, plastica e vetro ognuno dei quali appunto è un bidoni in senso assoluto o relativo chi è giunto cotto chi ha avuto sfortuna chi non era magari neanche un calciatore io infatti nella mia introduzione cosa ho detto nessuno è un mondo questo del calcio una sorta di circo equestre pallonaro dove nessuno dice quello che pensa e pensa quello che dice per esempio sarò il nuovo scaffino disse Caraballo che era un giocatore del Pisa autoproclamato se erede di scaffino grande campione in realtà fece sette presenze e se ne tornò in Uruguay a fare il tassista almeno così si racconta farò più gol di Angelillo promise Calderon che era un centravanti argentino che arrivò al Napoli Angelillo per la cronaca è quello che detiene il record dei gol realizzati in una stagione ne fece 30 giocò sei partite senza realizzare neanche una rete sono come tutti gli altri disse Gheddafi il figlio del leader libico in realtà giocò solo una partita con risultati di cui non potrei preferisco lasciar perdere e alla fine faccio cito il periodo che c'è stato autarchio dal 66 all'80 un periodo in cui ci siamo chiusi dentro in cui dico si potrebbe dire da Pac Doic che è il fantomatico dentista ma in realtà non lo era perché così si raccontava che segnò il gol con la quale l'Italia fu estromessa dai mondiali del 66 da una squadra modesta che era la Corea del Nord da Pac Doic a lui Silvio Danuello che è uno dei primi stranieri che venne in Italia nel 1980 in mezzo 14 anni di calcio autarchico decisamente troppi